Marco Icardi, si parla di Digital Customer Experience, cosa sta facendo SAS oggi in questo senso? Ma noi pensiamo che per dare una risposta alle aziende, ai nostri clienti, ma anche per contribuire allo sviluppo di piattaforme, idee innovative sul mercato, abbiamo avviato tre punti che secondo me sono strategici, quindi tre temi su cui stiamo investendo. Uno, creare dei laboratori di innovazione a basso costo iniziale in cui le aziende possano sperimentare che cos'è il futuro, che comunque, ed è stato ben dibattuto oggi, non possiamo scrivere requisiti o cose su qualche cosa che verrà e quindi un laboratorio di innovazione su cui sperimentare. L'altro è creare competenze, c'è stato tanto dibattito oggi su avere disponibili competenze di persone che sappiano usare non solo tecnologie, ma modelli innovativi di business introdotti nell'azienda. Allora, su questo stiamo contribuendo con programmi di formazione sulle università, con la collaborazione di nostri partner e clienti per avviare giovani all'utilizzo di queste tecnologie. E terzo è, secondo me, l'ultimo punto chiave, è sapere costruire su tecnologie che oggi sono disponibili servizi a valore aggiunto. Allora, mettere insieme le componenti tecnologiche essenziali è un business. Saperlo fare e fare bene fa la differenza. Ecco, questi tre pillars, qual è poi la reattività delle aziende nei confronti di questa vostra informazione, formazione e creatività rispetto a questi tre pillars? Io credo che la risposta sia molto importante in termini di interesse perché oggi di Big Data Analytics e quanto poi si traduce nel digital è sulla bocca di tutti. Poi, come si è detto oggi, la voglia di rischiare e quindi investire in questo momento bisogna andarla a costruire insieme. Credo che ci sia un momento storico per l'Italia per coprire quel gap che è sicuramente di qualche anno rispetto all'estero e in cui noi potremo fare la differenza, lavorando insieme in una rete come quella creata oggi qui a Capri. Grazie. Grazie a voi.